I cassonetti gialli della Caritas all'ingresso della cittadella della Carità, via Morelli e Silvati, utilizzati come discariche per liberarsi di rifiuti ingombranti. Anche la notte, avverte il direttore della Caritas, Carlo Mele, c'è chi con l'alibi di fare beneficenza sversa materassi e scarti di mobili davanti in contenitori destinati a raccogliere indumenti per i poveri. Un atteggiamento inqualificabile, avverte Mele, la beneficenza non diventi un alibi per sversare immondizia sui luoghi di solidarietà. È diventata purtroppo veramente una discarica, ma la cosa che è incomprensibile è che la gente pensa di fare beneficenza. La beneficenza si dà dando il meglio di quello che si possiede, non quello di cui bisogna disfarsi. I materassi non ci servono, perché essendo un dormitorio, noi dobbiamo utilizzare materassi nitroghi, quindi speciali, che poi vanno trattati in una maniera particolare. Gli indumenti che devono essere utilizzati devono essere indumenti stirati, lavati, non cose di cui bisogna disfarsi. E poi non si lasciano per terra così all'abbandono. La donna è videosorvegliata, ma la gente viene di notte e allora lo fa con cattiveria. Non bisogna considerare quel posto una discarica già umana, una discarica di tutto quello che la società, il canessere, di cui si vuole liberare. Bisogna avere un'attenzione, sia in modo particolare per le persone. E se si ha veramente un'attenzione per le persone, chiaramente ci si comporta di conseguenza, ci dà quello che effettivamente di cui c'è bisogno e possibilmente in meglio di quello che si ha. Invece dice lei di rivolgersi al Pino Ambiente, insomma trovano il tempo per sbarazzarsi dei rifiuti portandoli lì. Non l'ho potuto fare loro, perché il Pino Ambiente è disponibile a recarsi presso i domicili e ritirare le cose. Noi dobbiamo fare il lavoro, adesso fanno 5 materassi là, quindi sono venute 5 persone che di notte certamente e hanno buttato questo materasso alla perdella. Non potevano chiamare loro il Pino Ambiente, non lo so.